I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. E declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchino quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 79.27% e il 73.32% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMIL UK e TICMIL EURO. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Questo webinar è presentato da me, Giuseppe Cericola, accounting manager Italia di TICMIL e con me il trainer indipendente e programmatore dell'expert, Salvatore Labriola. Allora, quali sono le caratteristiche? Faccio prima una piccola presentazione del broker e poi passiamo, entriamo nel vivo della webinar. Allora, le caratteristiche principali di TICMIL sono broker non dealing desk, commissioni tra le più basse del settore spread a partire da zero, forte regolamentazione con la FCA UK, i fondi sono custoditi in condi segregati e separati dalla società e assicurati fino a 50.000 sterlina. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi sono benvenuti tutti i tipi di strategie, expert advisor, indicatori quant'altro, quindi anche strategie di arbitraggio o scalping. Grazie alla velocità di esecuzione pari con una media di 0,1 secondo, c'è la possibilità anche di venire eseguiti con degli slippage positivi e questo è garantito dagli oltre 10 server sparsi per il globo. Poi abbiamo un'ampia gamma di mercati, tra cui ovviamente il Forex, CFD sugli indici, tra cui il Futsimil, Materie Prime, Metalli Preziosi e il Bitcoin. Abbiamo diversi strumenti di trading di ausilio al trader, come AutoChartis, la VPS in sconto del 20% per i clienti di TICMIL e il One Click Trading e la demo illimitata. Non ci sono costi su prelievi e depositi, abbiamo un interessante programma partner di TICMIL che vi invito a vedere magari sul nostro sito e siamo tra i pochi broker che agisce agendo in regime dichiarativo, offre un'assistenza sulla dichiarazione del capital gain grazie alle collaborazioni esterne con due diversi tipi di commercialisti, uno dove leggete l'email dot.marco di chiocciolagmail.com e l'altro di dichiarativo.com Questa è la mappa dei nostri server sparsi per il mondo, abbiamo aggiornato da poco quello negli Stati Uniti, quindi è stato spostato in Nord Virginia e abbiamo ovviamente i server più importanti, quello di Londra con i vari backup intorno, Dublino, Amsterdam e altri posti in Europa e poi ovviamente quello di Tokyo con altri backup che potete vedere nella mappa. Poi questa è l'offerta spread e commissione di TICMIL a confronto con altri broker, quindi questi sono dati presi da un sito esterno, il famoso sito di MyFXbook vengono comparati gli spread e le commissioni con altri broker e potrete vedere voi stessi anche in tempo reale che gli spread di TICMIL comprensive di commissioni sono sempre tra quelle più basse rispetto ai vari competitors lo vedete dalla tabella che si illumina di verde, quindi quando una tabella si illumina di verde nei vari cambi significa appunto che è la migliore offerta al momento Allora, io ho finito con la presentazione del broker, adesso entriamo nel vivo di questo webinar Allora, presenteremo il termometro Forex in versione Expert Advisor Nel primo webinar, che vi invito magari a rivedere per chi non avesse avuto modo di visionarlo potete vederlo sulla nostra pagina di TICMIL Italy c'è appunto la registrazione dove molto probabilmente anche domani verrà messa la registrazione qui trovate tutte le registrazioni dei webinar che abbiamo fatto fino ad oggi e quindi c'è anche quello che abbiamo fatto con Salvatore, se non sbaglio Salvatore due settimane fa abbiamo parlato dell'indicatore, poi magari se abbiamo tempo lo rivediamo un attimo però adesso ci focalizziamo proprio sul termometro Forex Expert Advisor e questa è un po' la diciamo la roadmap di oggi quindi andremo a vedere come installarlo sulla MT4 cosa cambia rispetto all'indicatore, la spiegazione delle variabili esterne dei pulsanti aggiunti l'apertura, gestione e chiusura di un basket valutario la gestione separata dei basket valutari dove analizzare i grafici dei vari indici valutari la copertura dei vari basket tenendo conto delle correlazioni tenendo conto dei campi originari e dei cross derivati e poi c'è ovviamente lo spazio finale per le domande allora, leviamo le slide perché non ci servono più e passiamo all'expert sapete tutti un po' come si installa un expert? immagino di sì, comunque lo vediamo velocemente allora, dopo che, quando vi verrà inviato il link per chi ha già scaricato l'indicatore la procedura sarà la stessa così rispondo anche alla domanda di Daniele che mi chiede come averlo allora, l'expert, quindi come ho scritto verrà dato in maniera assolutamente gratuita funzionerà su i conti demo di TIC1000 e i conti real in modo tale che possiate, senza scadenza ovviamente e potete fare tutte le prove che volete non c'è un volume minimo richiesto, assolutamente no e quindi soprattutto in demo potete capire se può fare a caso vostro oppure no poi verso il finale vi spiego un po' qual è la procedura per averlo che è molto semplice, non richiede nulla di complicato e adesso vi faccio vedere come si installa per chi magari non ha avuto mai modo di vedere come si installa un indicatore esterno o expert esterno della MT4 allora, quindi dopo aver scaricato il link dal link che vi verrà inviato dovete andare su file, apri scheda data mql4 e a differenza dell'indicatore dove nel primo caso lo andavamo a mettere nella cartella indicators qui andiamo nella cartella expert quindi basta poi trascinare o fare il copia e incolla del termometro forex e a chiudere e fare poi aggiorna o chiudere la piattaforma e riaprirla io già questa ovviamente è un'operazione l'ho fatta e poi trascinando l'expert sul grafico abbiamo questa schermata allora, Salvatore spiego un attimo le differenze con anzi spieghiamo prima le variabili esterne quindi le variabili esterne si richiamano con il tasto F7 allora, abbiamo la candela di riferimento che questa potete settarla su 1 e vi fa vedere i valori rispetto alla candela ovviamente precedente quindi se siete su un grafico daily avrete le forze e le debolezze relative alla candela daily precedente se scalate di 1 ad esempio mettete giusto Salvatore, meno 1 no, 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 devi incrementare sempre positivamente 2, 3 ah, sì scusa, scusa quindi se mettiamo 2 vediamo quella di due giorni precedenti però questa vi serve più che altro per fare dei backtest lasciatela sempre su 1 perché è stato sempre studiato sempre sulla candela di riferimento di 1 poi l'alert, abbastanza intuitivo se volete il true o il false dei vari segnali che sono gli stessi di quelli che sono stati dati spiegati durante il webinar sull'indicatore poi il layout possiamo scegliere se avere le tabelle in maniera orizzontale o in verticale questo è il layout in orizzontale poi il template qui nel template andiamo ad inserire quello che poi noi vogliamo vedere sul grafico ad esempio io ho scritto termometro perché mi sono salvato un template quando clicco su una di queste caselle ad esempio su auddn io ho già un template che ho salvato e che ho chiamato ho chiamato appunto termometro quindi l'ho scritto qui nelle variabili e ogni volta che quindi non devo ogni volta andare a cambiarmi il template lo fa direttamente l'expert e quindi mi mantiene in memoria quello che ho salvato poi i lotti questa è una nuova funzione rispetto all'indicatore perché ovviamente l'indicatore non ha la funzione lotti questo serve per decidere le sites che noi vogliamo inserire per ogni per ogni cambio o cross che sia quindi se inseriamo come ad esempio di default 0.10 significa che ogni operazione che verrà aperta dal termometro forex sarà di 0.10 poi ha anche una gestione questo basket dove noi possiamo impostare un profitto o una perdita in valori monetari giusto Salvatore? sono i valori assoluti ok quindi se metto mille sono mille dollari o mille euro a seconda della valuta del conto sia nel tuo caso sono mille dollari ok perfetto quindi quando arriva a mille dollari di profitto chiude tutte le posizioni che ha in essere o quando ovviamente c'è un loss di mille chiude appunto in perdita queste sono le poche variabili dell'expert quindi nulla di complicato adesso allora poi ci sono delle nuove aggiunte che sono state fatte rispetto all'indicatore magari Salvatore se vuoi spiegarle tu fai pure così visto che comunque l'hai programmato va bene riavrimi solo un attimo le variabili esterne con F7 sostanzialmente le prime variabili fino alla colore tabella sono praticamente ripreso quelle dell'indicatore termometro forex quindi sono le stesse quello che ho aggiunto sono le variabili relative appunto alla operatività ovvero all'expert advisor quindi lotti ho impostato lì bisogna impostare la size con cui vogliamo entrare ogni volta che compriamo vendiamo un cross abbiamo impostato semplicemente un profit di un basket complessivo delle operazioni in questo caso a mille dollari di positivo esco fuori a mille dollari di negativo esco fuori l'expert praticamente chiuderà tutte le operazioni tolto le variabili esterne ho rivisto poi toglierlo dalla schermata ho fatto una nuova release del termometro ho cambiato un po' la grafica ho cambiato praticamente questi colori dando una nuova veste chiaramente tutti questi bottoni che vedete sono tutti quanti cliccabili e per forza di cose ho dovuto come dire troncare alcune cose tipo per identificare la forza la debolezza o la neutralità di una valuta rispetto a un'altra troverete adesso solo la scritta F per forza D per debolezza e N ecco se lo evidenzia è quello lì perché per forza di cose altrimenti non c'entrava nello specchietto tutto quello che farete su questo expert premesso non fatemi fare solo una premessa questi sono fanno parte di quegli expert semi automatizzati non fa nulla da solo l'expert se non ci cliccate qualcosa sopra è un sposa il perfetto connubio tra l'operatività discrezionale quindi l'operatore sono io scelgo io che cosa voglio fare e l'automazione mi viene incontro perché magari piuttosto di fare io 30-40 click basta cliccare solo da qualche parte e mi fa e mi fa l'operazione ecco magari se esatto quello deve essere deve sempre sorridere il nostro smile ok adesso è abilitato nella parte di sotto valute in evidenza è uguale identico al termometro Forex ci va a evidenziare le valute che secondo me rappresentano diciamo su cui concentrare la maggiore attenzione quindi in questo caso l'unica valuta che mi che mi segnala è ODN in cui c'è un segnale persistente persistente significa che non è partito da l'isso ma è già da un po' che questo 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 si l'abbiamo spiegato questo nel nel primo webinar sull'indicatore allora la differenza sostanziale è che tutti adesso ve lo faccio vedere con degli esempi concreti perché altrimenti non riuscite a seguirci ehm nella tabella ci sono dei pulsanti che una volta cliccati operano in sul mercato dove è l'indicatore questo è l'indicatore vedete l'indicatore ha quasi le stesse le stesse funzioni soltanto che non ha eh i pulsanti cliccabili perché è stato fatto questo l'idea nasce dal comprare un determinato basket di valute rispetto a magari ad un altro che cosa intendo dire allora facciamo l'esempio che oggi Audi è forte quindi io con l'indicatore che cosa faccio come viene utilizzato in maniera diciamo canonica l'indicatore del termometro Forex mi vado a cercare la forza di Audi e la vado a incrociare con un'altra valuta che è debole quindi in questo caso l'unico incrocio disponibile eh che potrei fare con l'indicazione del termometro Forex è Audi Yen e infatti il termometro Forex ci illumina appunto la casella che è cliccata ci dà ehm appunto il grafico su Audi Yen dove noi poi possiamo fare le nostre analisi e capire se ehm questo tipo di indicazione eh rispecchia quello che erano magari le nostre intenzioni eh quindi questa operazione suggerisce il termometro Forex di farla in long proprio perché Audi è forte e ehm e dienne è debole eh però che cosa abbiamo aggiunto che cosa abbiamo tra l'altro pensato visto che ehm comunque io sia io sia Salvatore comunque chi segue la chat eh dove scriviamo ogni giorno di che poi magari ve lo scrivo in chat dove eh dove seguirci eh facciamo continui studi continue ricerche perché ovviamente nel trading non dobbiamo dobbiamo essere sempre comunque aggiornati non si smette mai di eh di imparare nuove cose quindi abbiamo detto perché non andare a comprare un intero basket di valute invece che andare a fare un'analisi eh singolarmente ad esempio Audi è forte perché non compro Audi contro tutte le valute in modo tale che posso beneficiare sia della della volatilità diversa che ogni ogni valuta e posso anche magari ehm diversificare il rischio rispetto che andrà a dare soltanto solo su una una valuta quindi per evitare di fare questa operazione in maniera singola perché io dovrei andare su ogni time frame e eh su sette time frame e fare sette operazioni che cosa fa questo termometro basta cliccare su Audi e mi chiede vuoi comprare Audi contro tutti clicco su sì e vedete che mi ha aperto tutte le operazioni quindi siccome Audi è forte eh ovviamente sono buy perché sul sul numeratore sono sono buy poi ovviamente quando l'audì si trova al denominatore invece sono eh le sell quindi mi fa eh queste buy su Audi USD Audi Yen Audi CHF Audi CAD Audi NZD EUR Audi e GFP Audi quindi mi ha aperto l'intero basket stessa cosa sullo Yen adesso è debole quindi significa che lo Yen andrebbe venduto contro tutte le altre valute quindi posso fare la stessa operazione quindi cliccando sullo Yen in questo caso lui mi dice vuoi comprare Yen contro tutti visto che è debole non devo comprarlo lo devo vendere quindi faccio no e lui mi rifà la domanda vuoi vendere Yen contro tutti mettendo sì lui mi apre tutte le operazioni contro eh dove c'è lo Yen quindi su Euro Yen USD Yen GPB Yen CHF Yen Audi Yen CAD Yen ENZD Yen giusto Salvatore? esatto sì lo ha venduto completamente lo Yen in questo caso perfetto quindi eh l'informazione che poi ci dà il termometro Forex aggiuntivo è che eh ci dice anche l'esposizione quindi abbiamo eh meno 070 perché ho aperto sette operazioni eh sette operazioni di vendita di Yen quindi sono sell di Yen e sono buy compratore di Audi quindi ho sette posizioni quindi da 010 sono 070 quindi eh questa è un'informazione utile che abbiamo aggiunto da poco perché che cosa può accadere è che magari eh oggi compro un basket di Audi eh magari domani o tra due giorni eh vedo che Audi diventa debole e quindi lo voglio vendere allora vado a venderlo e quindi io non perderei un po' eh il quadro della situazione e quindi devo un attimo seguire e capire eh dovrei capire manualmente quindi andarmi a vedere tutte le operazioni e e quindi non non è molto comodo ad esempio se io adesso Audi lo voglio vendere di nuovo la domanda vuoi vendere Audi contro tutti lo vendo e l'esposizione parte passa a 0 quindi in questo caso è come eh ho annullato l'esposizione sul basket Audi ad esempio eh non lo so voglio voglio comprare solo una di queste quindi non voglio comprare l'intero basket perché magari non so ho fatto un'analisi e voglio andare a a comprarmi solo Audi Yen proprio perché magari appunto lo Yen è debole è l'unica è l'unico basket debole quindi mi voglio andare a comprare Audi Yen e il termometro Forex eh permette di andare solo a comprare quella determinata valuta però in questo caso invece di cliccare su Audi quindi su un intero eh sul diciamo il pulsante più più grande più visibile dobbiamo andare su Yen e lui ci dice vuoi comprare Audi Yen sì e vedete l'esposizione torna a 0,10 e quindi fa questa eh questa ehm queste operazioni poi per chiudere tutto il basket ehm salvatore questo eh bisogna cliccare sopra no giusto? eh sì poi riporta il profit e loss del relativo basket cioè eh tutto quello che stiamo facendo su Audi viene racchiuso in quel profit adesso stai perdendo credo 26 dollari se non vedo male cliccando lì sopra quel tasto è un altro tasto funzioni chiaramente come premessa vi dico ogni volta che cliccate non vi preoccupate perché c'è sempre un controllo appunto con una domanda quindi dovreste fare doppio quit prima di fare qualche cosa che non non volete se tu provi adesso a cliccare su è un contotempo sì non vorrei ok se tu provi a cliccare su quel meno 26 dovrebbe chiederti eh appunto la chiusura delle operazioni prova un attimo ecco cliccando lì ecco chiudo tutto il basket Audi chiaramente dicendogli sì mi chiuderà tutte le operazioni relative all' Audi provo a fare vediamo quali se funziona ok vedete quindi chiude anche quelle vai vai scusa dicevo chiude tutto quelle che riguardano l'Audi anche quelle singolarmente aperte sotto lo specchietto Audi quindi se avete cliccato su Audi usd come ha fatto prima Giuseppe se non ricordo male tieni in considerazione il profit e loss di quell'operazione e quando decidete di chiudere tutto il basket potete cioè sicuramente con quell'unico click potete chiudere tutte le operazioni e resta in piedi adesso ancora in essere lo yen che vedo che c'è un'esposizione cioè l'hai venduto completamente e stai perdendo mi pare 30 dollari se non leggo male perché è abbastanza piccolo ok e anche lì in questo caso cliccando sul tasto del profit allora vi farà la domandina se volete chiudere tutte le operazioni vi chiuderà tutte quelle relative al yen prova ok in un'unica schermata c'è una domanda si usa solo sul telenovo lo potete utilizzare su qualunque time frame l'unica accortezza è non mettere un termometro forex su 15 minuti e un altro termometro forex sul daily anche perché insomma voi dovreste fare un'analisi su un unico time frame poi magari posso prevedere anche la possibilità di lavorare su più time frame adesso in questo momento stiamo fotografando la situazione daily del termometro forex e in basso sopra la scritta segnale vi ho printato anche la candela di riferimento cioè qual è la candela che stiamo analizzando stiamo analizzando la candela del 18 settembre perché oggi è 19 abbiamo messo come periodo di riferimento 1 questa situazione è relativa la candela chiusa il 18 settembre se provi a switchare time frame giuseppe vai su un h1 per esempio vai un attimo su un h1 parlando di questa situazione qui esatto vai su un h1 soprattutto le prime volte che lo installate dategli il tempo che calcolare gli storici ecco noi stiamo analizzando adesso la candela del 19 settembre delle ore 19 perché il nostro broker ci dice che sono le 20 e 27 perché c'è il GMT più 1 stiamo analizzando la candela chiusa alle ore 19 quello vi serve solo per identificare quale candela stiamo utilizzando in ultima analisi apri un po' di operazioni Giuseppe vendimi per esempio il franco svizzero vabbè aspetta aspetta che cancello tutti i segni oppure vendimi la UB quello che vuoi vendimi tutto l'audi e mi compri tutto lo yen esattamente l'opposto di quello che hai fatto tu questo è il mercato ok ho aggiunto in ultimo poi puoi aprire delle operazioni esatto singole da qualche altra parte ok facciamo euro NZD vai facciamo qui vai su euro cad vai ok aspetta fammi aprire un po' di operazioni così creiamo un po' il caos sulla piattaforma sì poi andare a risalire a questa operazione in effetti sarebbe molto molto difficile ok 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 allora una prima considerazione va fatta vabbè chiaramente nel bottone del profit io sto analizzando il profit del singolo basket quindi del basket NZD del basket sterlina del basket euro e così via ritorno un attimo sulle variabili esterne F7 ok il il profit basket quel mille sta a identificare i mille dollari li devo guadagnare sul singolo basket non fa la sommatoria di tutti i basket perché sostanzialmente il termometro è stato pensato appunto per ragionare su 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 un insieme di operazioni ma non su tutte cioè io voglio che aggiungo un profitto di mille dollari solo sul basket euro a quel punto l'expert in automatico mi chiuderà tutte le operazioni togli un attimo queste variabili esterne ho aggiunto in ultima in ultimissima analisi un bottone chiudi tutto che lo vedete sotto lì farlo vedere Giuseppe lì sotto persistente ecco quello qualora vogliate chiudere tutte le operazioni di tutti i basket allora dovreste cliccare su quel chiudi tutto che mi va a chiudere tutte quante le operazioni chiaramente mi fa la domanda lampeggia pure il pulsante chiedo tutte le colorazioni del termometro schiacciandoci dovrebbe chiudere tutte le operazioni sia quelle singole sia quelle del basket ecco qua chiuse tutte le operazioni adesso non abbiamo più nulla in portafoglio volevo rispondere un attimo alla domanda di Enrico che mi sembra molto 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 interessante è sì è possibile cambiare l'esposizione dei lotti direttamente dallo schermo senza dover entrare nell'angostazione delle A per ora non l'ho programmata però sì si deve rispondere anche a Gilberto si potrebbe si dovrebbe fare questo questo upgrade che insomma prometto prometterò di prometto di di farlo perché effettivamente noi abbiamo stabilito che 0,10 è la quantità dei lotti da tradare per ogni singolo per ogni singolo strumento sarebbe giusto e opportuno appunto separarla questa quantità proprio perché hanno dei pesi diversi mi prometto di farlo in un prossimo sì fino a un certo punto ho letto anch'io la domanda di Gilberto lui chiede se si possono considerare i lotti in base un po' ai pesi finanziari diversi di ogni valuta Nì nel senso sì sicuramente questo è un upgrade che puoi fare salvatore però a livello di volatilità io non sono molto d'accordo sul differenziale poi magari faccio vedere il perché spiego il motivo perché proprio l'esigenza di comprare un determinato basket invece di andare ad agire sul singolo strumento nasce proprio nel fatto di sfruttare le varie volatilità le varie velocità che hanno le varie valute rispetto a quella al basket che noi rispetto alla valuta del basket su cui andiamo a lavorare io questa cosa da un po' che l'ho notata e quindi l'ho inserita in uno dei miei progetti che sto seguendo poi se abbiamo tempo lo faccio vedere e quindi sì sicuramente si può differenziare però io personalmente preferisco avere un lottaggio fisso poi magari poi si anche perché cerchiamo di renderlo sempre più semplice possibile di non inserire mille variabili come ci sono magari diversi expert che hanno troppe variabili e poi non si riesce a seguire poi la logica dell'expert stesso allora cosa ci siamo dimenticati Salvatore di spiegare sull'expert credo abbiamo spiegato tutto sì credo proprio di sì sì per rispondere pure a Michele tutto si può fare ragazzi questi sono tutto oggetto di personalizzazione allora qualora una personalizzazione insomma la posso tenere diciamo valida io la implemento tranquillamente poi per ogni singolo utente qualora mi richiede una personalizzazione specifica tutto si può fare il che questo comporterebbe un aumento delle variabili è chiaramente codice codice più da scrivere però possono possono essere tutte quante poi magari allora noi lo diamo adesso così come perché perché ci si può lavorare bene non so datemi qualche feedback in chat cosa ne pensatevi può può piacere come expert oppure oppure no noi comunque lo diamo ripeto in maniera gratuita così come perché è molto utile adesso vi spiego come averlo allora ottimo interessante sì Gianluca lavora in semi automatico dove allora 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 capirete bene che questo tipo di expert comunque è stato scritto da Salvatore che è un programmatore quindi sicuramente non è facile scrivere un qualcosa del genere noi lo diamo gratuitamente proprio perché sono riuscito a chiudere una partnership con Salvatore quindi per tutti i clienti reali di Tickmill questo expert è gratuito quindi basta che adesso seguite i passaggi che vi dico e lo avrete gratuito anche in demo per chi si apre la demo per averlo siccome noi abbiamo aperto da poco una pagina Facebook di Tickmill allora dovete semplicemente poi domani vi scrivo tutti i vari passaggi però chi non vuole aspettare la registrazione e i vari passaggi può farlo già adesso e quindi domani mattina poi massimo inviamo l'expert dovete semplicemente cercare la pagina di Tickmill Italy su Facebook mettere un like alla pagina e lasciare una recensione sul broker questo ovviamente chi ha già il broker visto che vedo molti clienti di Tickmill lasciare una recensione e poi o io o qualche mio collega risponderà alla recensione con le indicazioni per ricevere l'expert quindi tutto qui nulla di complicato non dovete fare nessun altro nessun altro passaggio e quindi poi viene dato l'expert che è ripeto totalmente gratuito senza scadenza poi se ci dovessero essere eventuali upgrade quello poi lo stabiliamo successivamente allora ho spiegato come averlo adesso non ho più la mappa del webinar allora cerco un po' di ricordarmi che cosa dovevo dire allora dobbiamo tenere conto di due cose sostanzialmente allora faccio però una premessa nel senso che adesso passiamo un po' sul lato operativo spiegando un po' un possibile approccio però devo chiarire un aspetto non è mia intenzione darvi una strategia finita perché io non ho la soluzione quindi non sono il primo che si mette ogni santo giorno a cercare nuove nuove strategie quindi io più che altro non so Salvatore tu se sei d'accordo ma io almeno io mi definisco più un ricercatore che un trader e quindi proprio sono convinto che solo attraverso lo studio la condivisione del lavoro di gruppo si possa aggiungere poi a un risultato quindi io adesso vi spiego un po' qual è la mia idea di come utilizzare questo expert anche perché lo sto provando io stesso in real con due approcci diversi e mi dite un po' cosa ne pensate io da da qualche mese ho iniziato a studiare bene anche il discorso delle correlazioni della volatilità e quindi diciamo che questo è un po' un percorso che sto seguendo quindi condivido con tutti proprio perché secondo me con la condivisione si riesce comunque a trovare un po' la quadra del cerchio e quindi è sempre meglio magari conoscere persone più in gamba del sottoscritto per arrivare a soluzioni o a migliorie quindi sicuramente un risparmio anche di soldi perché una cosa è farlo nelle quattro mure quindi farsi tutti gli studi quindi senza mai giungere a una conclusione un'altra cosa condividere con un team di persone e arrivare magari a delle soluzioni delle soluzioni un po' più concrete allora io lo utilizzo ho iniziato a utilizzarlo su due conti allora uno un conto più grosso real dove ho iniziato un po' sempre sulla logica dei vari basket a comprare un determinato basket contro un altro ad esempio oggi avevamo Audi molto forte e ho comprato Audi come ho fatto vedere prima e attualmente il basket sta pagando cosa che non posso dire lo stesso su Yen su Yen dove attualmente sto perdendo questo importo però cosa è successo sullo Yen ed ecco perché serve comunque gli errori servono per migliorarsi dovete sapere che questa aggiunta dell'esposizione è stata fatta da poco perché io ho iniziato ad utilizzare l'expert però ad un certo punto mi sono un po' perso tra i vari ordini perché che cosa può succedere che se aprite posizioni ogni giorno di basket del basket vi potete trovare una situazione del genere e quindi riuscire ad trovare una soluzione quindi a magari andarsi a vedere ogni singola valuta diventa un po' problematico quindi l'esposizione è importante quindi io adesso sono di un lotto e 20 esposto in buy sullo yen come è messo lo yen allora il termometro forex mi dà sicuramente la situazione della forza o debolezza del relativo al giorno precedente quindi è un'ottima indicazione di diciamo di breve termine e che mi può dare un setup operativo però secondo me non so se siete d'accordo in chat bisogna anche cercare diciamo una linea di tendenza un po' sul lungo termine quindi andarsi a vedere gli indici valutari quindi non il singolo cambio cross ma l'indice può comunque aiutare e dove vederle questi indici un sito che io utilizzo è questo mataf.net dove ci sono i vari indici non so Salvatore se lo conosci questo sito o se voi lo conoscete allora la situazione dello yen è sicuramente ribassista io l'ho iniziato a comprare perché un po' l'ho fatto anche all'inizio senza una logica precisa è un po' perché adesso siamo su su livelli molto bassi quindi magari provare a farlo respirare un po' lo yen non è proprio sbagliatissimo quindi un primo passaggio potrebbe essere dell'utilizzo che poi questo qui andrebbe un po' sviluppato è quello di vedere un attimo la tendenza dei vari indici quindi lo yen il dollar index quindi capire un attimo dove siamo e un'altra cosa che secondo me è questa poi secondo me può essere il valore aggiunto è farsi un'idea con il cot report proprio perché siccome andiamo ad operare su le varie valute il cot report è a mio avviso un ottimo strumento per capire un po' la tendenza generale vediamo che sullo yen questo è sul sito di bar chart non so se conoscete anche questo questo sito e praticamente bisogna fare un po' il contrario di quello che fanno i commercial o seguire semplicemente i large speculator diciamo che i commercial vanno a includere anche le posizioni degli diciamo fanno da controparte anche agli small speculator quindi quindi magari è meglio fare il contrario di quello che fanno i commercial quindi sullo yen attualmente noi abbiamo una situazione di acquisto da parte dei commercial e quindi questa situazione che parte dal dal 18 giugno dal 18 giugno e in effetti comunque la valuta dello yen è sotto pressione si scrive gpb yen 18 luglio dove è? 5 18 luglio indicativamente non ci arriva ma dove stai spiegando come fai l'analisi giusto? allora quello che voglio spiegare è l'idea di fondo qual è è dare una tendenza quindi ad esempio sullo yen attualmente dovrei venderlo perché comunque i commercial sono long quindi ogni volta che ogni volta che lo yen passa in una situazione di forza o debolezza io vado in linea con con quello che mi dice il cot in questo modo so se devo comprarla una forza o venderla perché noi che cosa facciamo ad oggi con l'indicazione quando c'è forza compriamo e quando c'è debolezza vendiamo però non è detto non è sempre detto perché uno stato di forza può passare a uno stato di debolezza quindi possiamo puntare anche una situazione in contraria però una cosa è farla così senza avere un'analisi di fondo quindi avere magari dalla propria parte i grossi speculatori è una cosa farla solo perché ce lo dice l'indicatore non so se siete d'accordo su questo punto di vista e quindi si può cercare di di assecondare un po' la situazione di quello che ci dice il cot report questo poi magari lo spieghiamo bene nel prossimo d'accordo Luigi questo lo spieghiamo bene proprio nel nel prossimo nel prossimo webinar che lo facciamo proprio a livello proprio operativo adesso sto dando soltanto alcuni input poi voi magari adesso scaricatevi l'expert poi ci riflettete mi date qualche feedback e mi dite guarda Giuseppe secondo me si potrebbe utilizzare in questo modo piuttosto che ho trovato queste soluzioni perché ogni ovviamente ogni ogni idea è benvenuta quindi assolutamente dobbiamo avere un approccio collaborativo e una cosa a cui dobbiamo tener conto di cui dobbiamo tener conto è la volatilità e ovviamente le correlazioni perché allora se io prendo euro-dollaro e lo vado a confrontare con tutti gli euro presenti nel basket euro-cad euro-chf euro-yen euro-usd ho dimenticato qualcuno facciamo questi allora la correlazione giornaliera basata sull'ultimo anno mi dice che euro-dollaro euro-yen sono correlati per il 90% del tempo stessa cosa euro-dollaro euro-cad la correlazione è un po' meno forte intorno all'80% e quindi se compro ovviamente euro-dollaro andrà quasi sicuramente quindi il 90% delle volte euro-yen andrà dalla stessa parte quindi stessa cosa su euro-franco anche se soltanto il 50% delle volte e quindi dobbiamo tener conto delle correlazioni dirette e nonno che ha quel determinato cross perché ovviamente il mercato è dollaro-centrico e quindi tutto un po' gira intorno appunto al dollaro quindi nell'altra schermata vedete le correlazioni 90% su euro-dollaro euro-yen 80% su euro-cad e così via un'altra cosa di cui tener conto e mi collego alla domanda di che aveva fatto se non sbaglio non mi ricordo il nome sul peso è che ogni cross ogni valuta secondo appunto della liquidità che ha della liquidità che ha sul mercato ha una volatilità diversa sempre dal sito di Mataf vi potete scaricare vedere un po' tutte le volatilità che hanno i vari cambi e cross e io ho riportato quelle dell'ultimo anno appunto su un esempio sull'esempio sulla tabella di euro e abbiamo mediamente su euro-dollaro una volatilità di 99 pips diciamo 100 pips su euro-yen scusate su euro-dollaro abbiamo una volatilità media di 82 pips euro-cad 105 56 su euro-franco poi abbiamo una volatilità di 118 su euro-nzd 103 euro-d e 54 su euro-dn quindi comprando sempre a 0,10 io mi posso fare una stima di che volatilità avrà quel determinato basket perché avrà una volatilità se vado a sommarla quindi se vado buy su tutto il basket avrò una volatilità diciamo complessiva di circa 600 pips quindi mi devo aspettare che se va nel verso giusto posso avere questi 600 pips ovviamente una stima sulla volatilità sui massimi e minimi quindi prendetela per quello che è però potrebbe secondo me uno dei pochi modi per cercare di capire di quanto si muoverà il basket nell'anno e quindi questo tipo di variazione ovviamente può andare a favore o non quindi bisogna un po' calcolare anche questo aspetto e da qui nasce l'idea che siccome poi tra l'altro ogni basket che noi compriamo all'interno queste valute che tra loro sono anche correlate ad esempio euro nzd e euro aud sono correlate per il 90% del tempo stessa cosa per euro yen euro dollaro hanno una correlazione appunto come abbiamo visto prima molto alta quindi tenere conto che ogni volta che noi compriamo un cross euro ad e nello stesso tempo compriamo cross euro gpb è come se stessimo operando su audi gpb quindi o anche qui nasce proprio l'idea di bilanciarsi su un determinato basket che cosa significa ritorno sul dove è il conto demo ad esempio su voglio agire sul basket euro perché così vediamo un po' allora andiamo a vedere il basket euro cosa dice il cot allora i commercial sono short ok quindi sono short da un po' in realtà e in effetti poi l'euro è salito allora io devo comprare il basket euro però magari appunto vedo che le posizioni sono sono short da troppo tempo e quindi non voglio rischiare di prendermi in faccia tutto l'intero basket quindi quei 600 pips che abbiamo visto e quindi magari posso decidere di utilizzare quindi le correlazioni e andare un po' a coprire questo questo basket quindi che ne so compro euro salvatore mi stai seguendo io sì ti sto seguendo poi abbiamo sempre qualche domanda spero sia chiaro non non vorrei aver complicato troppo le cose allora quindi compro su euro dollaro buy euro gpp ho visto che ha una correlazione inversa quindi se compro comunque per sul 50 su 50 settimane ha una variazione inversa del circa 20% quindi euro yen siccome è molto correlato con euro dollaro posso decidere di venderlo euro franco che è correlato con euro dollaro per il 50% magari posso anche comprarlo e poi euro cad comunque ha una correlazione del circa il 80% con euro dollaro quindi magari posso venderlo e le altre due che sono tra l'altro molto molto correlate quindi audi e nzd una la compro e l'altra la vendo in questo modo il basket diciamo è è un po' bilanciato quindi poi che cosa posso fare quando poi magari avrò un nuovo basket che si illumina che ne so ad esempio su audi posso decidere di fare lo stesso ragionamento oppure andare a chiudermi quelle operazioni che sono in guadagno e quindi poi cercare di sfruttare di lavorare questo basket man mano e e quindi avere poi delle delle situazioni magari un po' più equilibrate leggo qualche domanda allora Gianluca non so se c'è anche quella sulla varianza dovresti rispondo io chiede se c'è sulla volatilità ma sul sito poi apre solo un'operazione accrosso si può fare aprire più posizioni no una per volta Michele in H1 ha un buon rendimento Giorgio non so cosa significhi per te l'H1 se ha un buon rendimento va sicuramente provato perché comunque ripeto questo è un progetto le statistiche che ho sul termometro Forex le ho fatte vedere nel precedente video magari lo riprendo queste sono un po' le performance adesso del termometro Forex diciamo in contraria in breakout quindi comunque ha guadagnato negli ultimi mesi a parte marzo e poi comunque sono progetti studio su questo progetto studio qui che ho fatto vedere adesso e introduco l'ultimo aspetto che poi magari vediamo nel prossimo webinar e appunto io queste cose che vi ho spiegato le ho iniziate un po' a fare da solo su un conto da 500 euro quindi non su questo grosso dove sto un po' sperimentando e quindi poi vi aggiorno vi farò vedere anche poi le statistiche su questo come va allora la cosa bella su questo conto qui e soprattutto per chi poi magari intende comunque fare le proprie prove è che questo conto da 500 io ho una leva 30 quindi con poi le nuove disposizioni ESMA io ho anche la protezione del saldo negativo quindi su questo conto qui adesso vi faccio vedere sarà lo stesso comunque conto a dirmi quando devo fermarmi con il basket nel senso che su queste 500 euro io so che ho all'incirca operando con micro lotti all'incirca 5000 pips di range quindi posso utilizzare i vari basket e visto che comunque ho un conto piccolo posso permettermi di tra virgolette bruciarlo proprio perché c'è la protezione del saldo negativo quindi so che non posso perdere più di quello che ho depositato e in questo modo posso andare a lavorare sui vari basket come come sto facendo e per ogni 500 euro quindi daremi questa regola per ogni 500 euro di deposito utilizzare i micro lotti del 001 adesso facciamo un esempio proprio pratico e poi chiudiamo il webinar questo è reale no? sì questo è reale sì è vero c'è la Champions infatti adesso tra poco chiudiamo buona partita Gianluca allora lascio la mail in chat così ok allora questo è diciamo è la situazione del conto che su cui ho iniziato a lavorare allora Audi mi dice che è forte quindi mi aiuto prima con il cot andiamo a vedere che dice il cot allora sul cot vediamo che i commercial hanno iniziato a comprare da diverso tempo dal 16 aprile e quindi siamo su livelli molto molto alti quindi allora in questo caso prima o poi queste posizioni tornano verso lo zero quindi in questo caso io non ho un'indicazione proprio chiara nel senso che sull'audi io preferisco cioè sul cot io preferisco andarmi a lavorare i vari incroci perché so che magari da un incrocio può nascere comunque una tendenza piuttosto che andarmela a prendere quando magari già si è sviluppato un grosso trend quindi su Audi non è proprio la miglior miglior soluzione vediamo un po' sullo yen anzi anzi facciamo così Saudi yen andiamo a favore della tendenza ma mi aiuto un po' con le correlazioni per andare a evitare di impelagarmi in situazioni in cui magari mi prendo tutto il ritracciamento in faccia perché allora adesso mi dà forza quindi io non credo in questa forza quindi che cosa faccio punto a un ritorno in uno stato di debolezza dell'Audi ok quindi devo andare a vendere Audi in questo caso non compro l'intero basket proprio perché l'indicazione del cot è a mio favore però diciamo che siccome le posizioni dei commercial sono molto alte quindi molti contratti e voglio evitare di andare a quindi a rischiare di prendermi tutto il ritracciamento quindi magari allora compro euro vendo Audi in questo caso quindi devo fare il buy su euro Audi Audi in questo caso posso venderlo GPB Audi ah no però che stupido scusate non ho messo l'auto trading quindi allora compro euro vendo Audi poi Audi Usd dovendo GPB Audi che è correlato molto con Euro Audi se io lo vado a vedere nella nella la correlazione Euro Audi ha una correlazione molto alta intorno al 90% quindi sul diciamo sul sull'annuale quindi siccome ho comprato Euro Audi e GPB Audi andranno quasi sicuramente per il 90% delle volte sulla stessa sulla stessa direzione in questo caso lo vendo quindi vendo GPB e compro Audi Audi Yen lo compro Audi CAD questo posso anche diciamo comprarlo non mi ricordo Audi CAD e Audi NZD che correlazione hanno però se hanno una correlazione magari sopra al 70% Audi NZD lo vendo un attimo che vado a vedere dalla dalla tabella quindi abbiamo detto Audi CAD e Audi NZD no non hanno nessuna correlazione quindi posso anche comprare diciamo che in questo modo in questo modo sono un po' diciamo coperto su eventuali su eventuali ritracciamenti troppo forti domani comunque mi vado a vedere un po' tutti i basket ogni giorno e cerco un po' di capire un po' la situazione la situazione un po' com'è e su Audi sono diciamo ancora dello 0 0 0 0 cioè due micro lotti in in quindi invece di avere un'esposizione di 0 0 7 ce l'ho di 0 0 2 e quindi un po' queste sono i vari ragionamenti che poi vedremo bene nel prossimo webinar e vediamo un po' qualche altro domanda allora faccio vedere pure io qualche altra cioè lo strumento si presta a qualunque tipo di approccio questo che hai fatto vedere tu Giuseppe è già abbastanza complesso nel senso bisognerebbe studiarsi le valute appunto le correlazioni però io come lo sto utilizzando io in maniera molto più grossolata molto più grezza se vogliamo che poi grezza non lo è faccio trading molto molto più più velocemente perché faccio un'analisi a mode sfruttando stesso le indicazioni del termometro senza andare a vedere tutto tutto questo quello sì allora il problema che ho avuto io utilizzando il termometro è che a volte mi trovo in situazioni di contrasto quindi magari che ne so ho una forza su Audi ma siccome io poi per altre mie analisi vedo anche sempre molto il cot cerco di non andargli contro però capisco che si possono comunque creare altre operazioni quindi assolutamente si può fare è un po' quello che sto adesso io provando in maniera molto diciamo come hai detto tu grezza su questo conto qui dove attualmente diciamo che cosa sto facendo sto chiudendo un po' tutti i vari le varie operazioni a guanagliato 160 però è sotto di 777 adesso domani ad esempio se mi trovo questa esposizione di yen io la devo ridurre in qualche modo quindi magari se domani o tra due tre giorni Audi con 0,60 mi supera il profitto di yen io mi chiudo tutto questi due basket e mi lascio aperto soltanto questi quindi riducono in molto l'esposizione io l'errore che ho fatto qui è di espormi troppo in yen quindi per questo ecco comunque si possono fare tantissime di quelle tante di quelle operazioni comunque strategie proprio perché ci si può ragionare proprio sui basket sulle correlazioni proprio sarei curioso di seguire quel dollaro canadese perché vorrei proprio adesso tu sei short volevo capire appunto se questa semiforza che adesso non è evidenziata perché per questioni numeriche insomma è neutrale ma per poco voglio vedere se poi con il tempo perché minimo di drawdown che voi ci deve pure essere però voglio vedere se col tempo poi le vai a recuperare sia il card che la nzd e questa è una strada per la strategia che magari possiamo far vedere il prossimo mercoledì e poi facciamo vedere mercoledì prossimo questa strategia tenete conto che su questo si può fare solo se si è molto capitalizzati e quindi su questo avere anche la pazienza quindi lavorarlo giorno per giorno un determinato basket perché comunque gli stati di forza e debolezza si alternano in maniera ciclica quindi ci si possono sfruttare le varie cose quindi non bisogna fare poi l'errore che ho fatto io di esporsi troppo su una determinata valuta perché se poi porta giù tutte le diciamo tutto il conto o poi per chi ha il conto più piccolino secondo me dargli proprio uno stop out usare utilizzare lo stop out della che offre appunto che offrono adesso i broker sotto esma in modo tale che comunque anche se le cose dovessero comunque andare male non ci si romina questa è un po' la situazione mentre qui magari visto che tu hai aggiunto il pulsante di limitare il loss inserire uno stop fissi ho messo delle 10.000 e quindi e quindi in questo modo anche diciamo sto tranquillo anche se sono 10.000 per basket però comunque con mini lotti non di solito non non si arrivano a situazioni disastrose però bisogna sempre comunque monitorare il tutto Leonardo sì questa è un'ottima cosa scusa Salvatore rispondo alla domanda di Leonardo tra l'altro Leonardo ti saluto è un cliente Tickmill sì bisognerebbe forse tener conto dello swap quindi magari si può si può anche prestare quindi fare magari solo i basket utilizzarli quando si è a favore di swap assolutamente quella è un altro tipo di strategia che si può fare sicuramente sì assolutamente no volevo dire solo un attimo il condore che ha aperto questo qua il basket un attimo che ha aperto mi pare di capire che con 500 euro un basket lo riesce a Mantenese 500 euro sì diciamo sì questa è un'esposizione di un lotto con un altro condore da 500 ah sì da 500 riusciamo si riescono a aprire anche fino a una trentina di operazioni tranquillamente vedete quando erano aperte contemporaneamente la cosa bella è che quando si arriva la leva 30 è proprio il margine che ti dice che non puoi aprirle più quindi anche in questo modo hai una sorta di gestione quindi devi poi andare a togliere le varie posizioni magari togli quelle che perdono di più o quelle che guadagnano poco e quindi riesci a mantenere in equilibrio il basket ovviamente questi sono solo progetti che io sto portando avanti quindi penso che comunque anch'io sono un trader non non voglio insegnare niente a nessuno né tantomeno dovete seguire le indicazioni che do io vi invito soltanto a riflettere magari se avete poi delle delle strategie che da condividere quindi con questo modo visto che comunque abbiamo tutti adesso l'avete tutti gratuitamente quindi non diciamo non ci sono scuse per non seguire la chat di gruppo vi giro il link e poi chiudiamo dove eccolo qui la chat di gruppo l'ho inserita invia tutti ok chi poi vuole seguire giorno per giorno comunque questi interessanti progetti può seguirci dalla chat telegram che altro allora vi ripeto allora come averlo vi ripeto come averlo su per chi non vuole aspettare la registrazione perché non so se verrà inserita tra un paio di giorni o domani potete già lasciare una recensione su Tickmill Italy quindi cercare su Facebook Tickmill Italy lasciare la recensione e poi domani mattina comunque vi vi envieranno le istruzioni per avere l'expert allora Salvatore tu hai qualcosa altro da aggiungere? semplicemente scaricatelo e provatelo solo solo con l'operatività vi renderete conto della potenzialità dell'expert provandolo tra le varie strategie vi renderete conto della funzionalità ed è un secondo me un ottimo strumento di aiuto almeno io lo utilizzo tutti i giorni e mi trovo molto molto bene poi tutte le varie implementazioni le varie personalizzazioni se ne può parlare se ne può discutere ma prima di parlare degli upgrade iniziamo a utilizzare la versione base che di base già c'ha un bel po' un bel po' di funzionalità e poi poi ne possiamo discutere perfetto allora chiudiamo qui il prossimo webinar mercoledì prossimo chi si è iscritto a questo è già iscritto in automatico a quello successivo quindi nel prossimo andremo a vedere ancora altre strategie quindi la strategia di Salvatore e spiegheremo di nuovo questa magari nel dettaglio e poi se avete se nella settimana dovremmo comunque dovessimo sviluppare altre altre strategie magari poi le vediamo insieme mercoledì prossimo grazie a tutti e vi auguro una buona serata buona serata a tutti ciao ragazzi